A pochi giorni dalla festa liturgica di San Pio da Pietro di Cina, noi che ci stiamo preparando a questa festa, a questo grande momento, non solo per i devoti di Padre Pio, ma per la Chiesa, per rendere l'ode a Dio di questo grande dono che è Padre Pio da Pietro di Cina, e rendere l'ode chiedendo al Signore e a Padre Pio l'intercessione per il dono della nostra conversione, ecco, continuiamo oggi passando alla seconda parola di consegna che Papa Francesco fece nella sua visita qui a San Giovanni Rotondo durante la sua omelia. Fino a ieri ci siamo soffermati un po' sulla preghiera. L'altra parola che il Papa ci ha consegnato è la piccolezza. Difatti, nel testo del Vangelo di Matteo, letto quel giorno, Gesù ringrazia il Padre, loda il Padre perché ha rivelato i misteri del suo regno ai piccoli. Attenzione ai piccoli e non ai grandi. E chi sono i piccoli? Chi sono questi piccoli del regno? Questi piccoli che sanno accogliere i segreti di Dio? Sentiamo cosa disse Papa Francesco. I piccoli sono quelli che hanno bisogno dei grandi, che non sono autosufficienti, che non pensano di bastare a se stessi. Piccoli sono quelli che hanno il cuore umile e aperto, povero e bisognoso, che avvertono la necessità di pregare, di affidarsi e di lasciarsi accompagnare. Piccoli è sentire il bisogno di Dio, piccoli è sentire il bisogno di essere amati da Dio, ma anche il bisogno di amare Dio nei poveri, negli ultimi. Il bisogno, appunto, di sentirsi in maniera gioiosa delle creature bisognose di amore. Il cuore di questi piccoli, dice Papa Francesco, è come un'antenna. Capta il segnale di Dio. Subito lo capta. E se ne accorge subito, perché Dio cerca il contatto con tutti, ma chi si fa grande crea un'enorme interferenza. Non arriva il desiderio di Dio. Quando si è pieni di sé, non c'è posto per Dio. Perciò egli predilige i piccoli, si rivela a loro e la via per incontrarla è quella di abbassarsi, di rimpicciolirsi dentro, di riconoscersi bisognosi. Il mistero di Gesù Cristo è mistero di piccolezza, ci ha detto Papa Francesco. Lui si è abbassato, si è annientato. Il mistero di Gesù, come vediamo nell'ostia ad ogni immessa, è mistero di piccolezza, di amore umile e si coglie solo facendosi piccoli e frequentando i piccoli. Noi siamo immersi e siamo figli e destinatari di questo grande mistero, che è il mistero della piccolezza, di un Dio che si fa piccolo, di un Dio che si fa uomo, di un Dio che si fa carne, di un Dio che ancora oggi ha scelto il mistero della piccolezza attraverso la sua presenza reale, vera, in corpo, in sangue, anima e divinità, che è l'ostia, che è l'eucaristia. Che grandezza, che grandezza che ci viene dai piccoli. E farsi piccoli, piccoli del Vangelo, piccoli del Regno, vuol dire lasciare che Dio entri nella mia vita e nella tua vita. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Ciao a tutti!